Grazie a tutti. Un tentativo di, non di leggere poesie o di leggere poeti, le poesie si leggono nel silenzio dell'anima. Noi vogliamo fare un'operazione completamente opposta, vogliamo, tentiamo di teatralizzare tutto questo, fare un evento scenico, mettere in scena quello che è l'interiore, dare spazio al tempo. Ecco, questo vuole essere il senso. E questo lo si può realizzare mostrando in che modo il nostro tentativo corrisponde forse a una situazione storica del nostro tempo. Il venir meno del significato delle parole. Le voci spezzate sta a indicare anche questo, che le parole si frantumano. E vediamo che cosa significa questo frantumarsi delle parole. Vediamo in che modo la parola si riduce a suono. Facendosi suono e gesto acquista un diverso significato. Questo sarebbe il nostro tentativo, o forse la nostra preferenza, o forse il nostro divertimento. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.